Siano lodati Gesù e Maria Cari fratelli e sorelle, oggi, secondo giorno della novena dell'Immacolata, continuiamo a meditare sulla sovranità di Maria. Prendiamo spunto da alcuni autori che insegnarono con la loro vita e con i loro scritti l'amore e la devozione alla Regina dei Cuori. Nel Medioevo, sotto l'impulso del feudalesimo, ci furono molte offerte di se stessi a Maria Santissima in qualità di servi e sudditi. Il grande teologo della servitù mariana fu Riccardo di San Lorenzo, autore di una poderosa opera che si può definire come una somma della teologia mariana dell'epoca. Così scrive riguardo alla bellezza della dedizione alla Vergine Maria. Coloro che la servono nel tempo presente, nel secolo futuro, vedranno il suo volto gloriosissimo. Bisogna dunque pregarla assiduamente affinché ci insegni le sue vie e ci faccia camminare per i suoi sentieri. Colui che nella vita presente si sarà mantenuto su queste vie e su questi sentieri, vedrà con i suoi occhi la Regina nel suo splendore. E coloro che la imitano avranno parte con lei. Pare infatti che ella dica al figlio ciò che il figlio ha detto al padre. «Oh figlio, voglio che dove sono io sia pure il mio servo». Bisogna pregare Maria finché voglia questo. Infatti, se lo vuole, accadrà necessariamente. Queste parole ci esortano a servire fedelmente Maria per poter un giorno contemplare il suo volto glorioso. Ci spronano a pregarla assiduamente e a imitarla per vederla un giorno con i nostri occhi in tutto il suo splendore e avere parte con lei in Paradiso. La ricompensa del servizio che le prestiamo è lei stessa, ricompensa che va al di là di ogni nostra immaginazione. Bisogna pregare assiduamente la Vergine Maria perché, come insegna Riccardo di San Lorenzo, la sua preghiera è onnipotente e ottiene efficacemente ciò che domanda a Dio. Infatti dice «Se lo vuole, accadrà necessariamente». Queste parole ci insegnano che Maria Santissima è sempre esaudita in tutto ciò che domanda e la grazia che maggiormente sta a cuore a questa Madre Amabilissima è la nostra salvezza eterna. «O figlio, voglio che dove sono io sia pure il mio servo». Rendiamoci propizia la Regina del cielo e della terra con un continuo ricorso a lei. Questa è la più valida assicurazione di vita eterna. Lo stesso discorso vale per tutte le altre grazie. Basta che ella lo voglia e la grazia è fatta. Per questo motivo Dante Alighieri nella Divina Commedia così cantava «Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanzali». Maria ci ha donato l'autore della grazia, Gesù, e con Lui ci dona ogni grazia. E se la Madonna è buona con tutti, lo ha in modo particolare con i Suoi servi fedeli, con tutti quelli che camminano per i Suoi sentieri, che la imitano nelle Sue virtù e che cercano di assomigliarle nell'umiltà e bontà di cuore. Un santo che molto ha amato la Madonna e molto ha parlato di lei è stato San Bernardo da Chiaravalle. Questo santo arrivò a dire che Dio ha riversato in Maria la pienezza di ogni bene e se vi è in noi qualche speranza, qualche grazia, qualche attesa di salvezza, lo dobbiamo a lei, che da presso Dio è dispensatrice di ogni delizia. San Bernardo fece un profondo commento al brano del Cantico dei Cantici. «Levati, Aquilone, e tu, Austro, vieni, soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi. Venga il mio diletto nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti». San Bernardo affermava che la Vergine Maria è questo giardino di delizie da cui si sprigionano e si diffondono, ad opera del vento divino dello Spirito Santo, i suoi aromi, ovvero tutte le grazie, per cui se si elimina Maria il mondo rimane avvolto dall'ombra di morte. Alle parole di San Bernardo fanno eco qualche secolo dopo le parole di San Giovanni Ed, il quale insegnava che questo giardino profumato di candore, dove fioriscono tutte le grazie, è il cuore immacolato di Maria. Quando il Signore si incarnò nel grembo virginale di Maria, entrò nel suo giardino ed ora a tutti noi, con le parole del Cantico dei Cantici, rivolge l'invito a saziarci dei frutti di grazia che maturano all'interno di questo amabilissimo cuore. Mangiate, amici, bevete, inebriatevi, o cari. Il cuore immacolato di Maria è pieno di ogni sorta di frutti belli e gradevoli per tutti i cristiani. Infine, in una stupenda preghiera, San Giovanni Damasceno così si rivolgeva alla piena di grazia. In te, o piena di grazia, gioiscono le schiere degli angeli e il genere umano. O Tempio santificato e paradiso spirituale, vanto delle vergini, grazie a te Dio si è incarnato divenendo bambino, Lui il nostro Dio prima dei secoli. Del tuo seno, infatti, egli ha fatto un trono e lo ha reso più vasto dei cieli. In te, o piena di grazia, gioisce tutto il creato. Gloria a te. E ora, cari fratelli e sorelle, concludiamo con la preghiera della novena. O specchio di santità, immacolata Maria Vergine, noi godiamo nel vedere che sono state infuse in te, sin dalla tua concezione, le più sublimi virtù e tutti i doni dello Spirito Santo. Ringraziamo e lodiamo la Santissima Trinità che ti ha favorita con questi privilegi e ti supplichiamo, o Madre Benigna, di ottenerci la pratica delle virtù e renderci così degni di ricevere i doni e la grazia dello Spirito Santo. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vergine Immacolata, prega per noi. Grazie a tutti.